Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi andiamo a fare il cambio dell'armadio, scusatemi per le luci, ma purtroppo oggi piove e l'illuminazione è quella che è. Comunque andiamo subito a vedere come io realizzo il cambio dell'armadio, lo faccio con calma, senza stress, i consigli sono pochi, molto semplici, ma spero che comunque possano tornarvi utili nel cambio dell'armadio ogni stagione, insomma. Quello che faccio io prima di tutto è prepararmi tutto il necessario a portata di mano. A questo punto quello che vado a fare io è di fare una scatola alla volta, quindi prendo la prima delle mie scatole, che come vedete è non piena di più, e la vado a svuotare nel letto. Quindi adesso prendo tutta la roba che c'è dentro la scatola e la metto nel letto, in questo modo avrò una scatola vuota da riempire con la roba che c'è nell'armadio. Allora, adesso vi mostro bene. Allora, partiamo svuotando la scatola. Questo è tutto quello che c'era all'interno della scatola. Utilizzando questo metodo per piegare le cose ci sta davvero un sacco di roba. Questa è la scatola vuota e questa è tutta la roba che c'era all'interno della scatola e come vedete è tantissima. Negli ultimi due anni ho adottato questo nuovo metodo per piegare i vestiti. E' il metodo utilizzato da Conmarie che probabilmente avete già sentito parlare un milione di volte. Se volete vi faccio un video a riguardo, non riguardo al metodo Conmarie, ma riguardo al metodo di come l'ho personalizzato io il suo metodo perché ci sono molte cose che lei insegna, che io utilizzo, ma altre con le quali non mi trovo bene e che ho, diciamo, rielaborato in modo che possono adeguarsi di più a me. E appunto il metodo che utilizzo per piegare è quello di Conmarie. Come vi ho mostrato nella clip di prima, sono piegati in un modo particolare. Mi piace questo metodo di piegatura per diversi motivi. Il primo è che ci sta davvero tanta, tanta più roba nei cassetti e come avete visto anche nello scatolone perché quello è tutto quello che c'era all'interno dello scatolone e sebbene lo scatolone sia abbastanza grande, in ogni caso se la roba fosse piegata in un'altra maniera occuperebbe molto, molto più spazio e potete fare la prova a casa da soli, ve lo assicuro. Perché quando ci ho provato la prima volta sono rimasta scioccata e immediatamente lo spazio nell'armadio è praticamente raddoppiato. Un altro motivo per cui mi piace questo metodo di piegatura è che la roba sta in piedi da sola, come avete potuto vedere, e quindi quando andate a tirar fuori la roba dall'armadio i vestiti non cadono, ma rimangono in piedi, rimanendo quindi sempre ordinati. Mentre nell'altro caso, nel modo classico in cui ho sempre piegato la roba, quando si tira fuori un indumento, inevitabilmente qualcosa crolla e quindi poi se siete bravi e la rimettete subito a posto, non cambia nulla, ma se siete come me, che di solito sto sempre di fretta e dico, ok, lo sistemo dopo, nel giro di una settimana l'armadio è in disordine. Altro motivo per cui mi piace questo metodo di piegatura è perché ho subito bene in vista tutti i miei vestiti, quindi ho una visuale completa di quello che ho, mentre con il metodo che utilizzavo prima si vedevano soltanto diciamo quelle in cima alla pila di vestiti e quello sotto si faticava a vedere, stesso motivo per la quale poi è anche più semplice andare a prendere il vestito che ci serve, quindi una volta sistemati i vestiti nei cassetti o nell'armadio comunque e avendo tutta la visuale completa si va a prendere direttamente il capo che serve e si vanno ad utilizzare comunque con un ciclo periodico, diciamo più o meno tutti i vestiti, cosa che non succede se invece vengono impilati in modo verticale perché in genere si tende ad utilizzare soltanto quelli in cima alla colonna, quelli sotto né si vedono né ci si ricorda di averli e tantomeno si va a distruggere tutta la pila di vestiti per prendere l'ultimo, per capirci. Questo metodo assolutamente mi ha rivoluzionato la vita. Dunque, tornando al cambio armadio, quello che faccio ora è svuotare il primo cassetto. prendo il primo cassetto e lo vado a inserire direttamente tutto all'interno della scatola. Mentre faccio questo passaggio, se mi accorgo che c'è roba che non ho mai utilizzato nell'ultima stagione, la metto nell'altro scatolone, quella che invece è con la roba che dovrò o regalare o vendere, o comunque dar via. Sempre in questo passaggio, se mi accorgo che c'è roba bucata o roba macchiata, la metto all'interno di una borsa, in modo da portarle o dal sarto o comunque in lavanderia. Quindi prendo il mio scatolone vuoto e comincio con il mio lavoro. Prima il secondo cassetto rispetto al primo, perché in questo cassetto, come vedete, ci sono i maglioni più pesanti, quelli di lana e anche con il collo alto, che in questo periodo assolutamente non utilizzerò più. Quindi comincio da qua. Se mentre smontate il cassetto vi rendete conto che ci sono cose che volete ancora tenere, perché comunque ancora non c'è caldissimo qui, quindi qualche felpa e un paio di maglioncini, l'itero nel cassetto, li mettete sul letto in una zona separata da quella estiva, insomma, che poi quando andiamo a riempire di nuovo andiamo a sistemare tutto. A questo punto il mio cassetto è completamente vuoto, quello che vado a fare ora ovviamente è pulirlo. Ora che è anche pulito, quello che vado a fare è scegliere che cosa mettere all'interno di questo cassetto. Nel mio caso, in questa parte dell'armadio, voglio mettere tutte le cose che ho bisogno di tenere a portata di mano ogni giorno, quindi ci sono tutte le cose che utilizzo ogni giorno in linea di massima. Nell'ultimo cassetto tengo i pigiami, i vestiti che tengo quando torno a casa, i vestiti da usare in casa. Nel secondo cassetto tengo tutte le parti sotto dell'abbigliamento, quindi shorts, leggings e gonne. Nel primo cassetto invece tengo le canotte, le t-shirts e comunque tutte le parti superiori dell'abbigliamento. E poi, come vedete, ci sono anche le borse ed eventualmente le giacche. Un altro metodo che utilizzo io per riempire il cassetto, arrivati a questo punto, se devo svuotare una sola scatola, quindi ho tempo soltanto per svuotare una sola scatola, divido i vestiti appunto in sopra e sotto e tengo per dire i pantaloni alla destra del cassetto e le magliette invece a sinistra, in modo che poi quando andrò a liberare un altro cassetto potrò immediatamente andarli a sistemare nel loro posto. Se invece ho tempo per aprire un'altra scatola, tolgo dalla roba che ho messo sul letto tutti i capi che mi servono, quindi nel mio caso tutti i pantaloni, e li vado a mettere nel cassetto per poi, una volta che ho svuotato anche l'altro cassetto, lo vado a riempire insomma con la roba che è rimasta. Ho riempito il cassetto con tutti gli shorts, i leggings e le gonne, quello che vado a fare adesso è ordinarli in base al colore, se siete più furbi di me lo fate direttamente mentre riempite il cassetto. Adesso ho diviso tutti gli shorts in ordine di colore, partendo dal nero, poi i jeans e poi quelli rossi, rosa, grigio e bianco. Quello è un paio di pantaloni sportivo, quindi lo tengo da un'altra parte del cassetto e questi sono tutti i leggings che sono in un'altra zona del cassetto. Ora vado a fare lo stesso procedimento con tutto il resto. Comunque che aprirò scatola e il cassetto andrà a riempirsi, quindi alla fine del video vi farò vedere il risultato finale. A questo punto ho riempito il mio cassetto, un altro consiglio che vi posso dare sul come scegliere cosa tenere e cosa buttare dei vestiti che avete, un consiglio che posso darvi è per esempio, per quanto riguarda i vestiti piegati, di tenerli tutti da un lato del cassetto e ogni volta che andate ad utilizzarli, metterli dal lato opposto. Vi ritroverete alla fine della stagione con tutti i vestiti che avete utilizzato da una parte del cassetto e quelli invece che alla fine della stagione per un motivo o per l'altro non avete usato dall'altro lato del cassetto. Ecco, questo è un modo molto veloce per capire quali sono effettivamente i capi che vi piacciono e che utilizzate. quindi alla fine andrete a tenere tutti i vestiti che avete utilizzato e che avete tenuto da una parte del cassetto e andate a regalare quelli che sono rimasti nello stesso lato, dall'altro lato del cassetto. una tecnica simile la vado ad utilizzare anche per i capi appesi ma quello lo faccio appena andiamo a sistemare con la zona lì. Quindi a questo punto questo cassetto l'abbiamo finito vado a svuotare questo all'interno della scatola che comunque è ancora mezza vuota così nel frattempo avrò anche lo spazio per sistemare la roba che mi manca. I passaggi a questo punto sono gli stessi quindi vado avanti finché non ho finito tutti i cassetti. la scatola è piena quindi semplicemente la chiudo e questa può andare direttamente nell'armadio fino al prossimo anno e qui ho cominciato a sistemare appunto le canotte i pantaloni e adesso vado a sistemare i pigiami. ok ho svuotato un altro scatolone anzi in realtà sono due e quindi adesso ho lo spazio per mettere a posto tutti i giubbotti che comunque durante l'estate utilizzerò terrò soltanto quelle in pelle e quelle in jeans e quelle leggere. dunque questa parte dell'armadio l'ho quasi finita mi manca la parte sopra ma la faccio in un secondo momento perché il resto dei giubbotti è nell'angolo l'ultimo pezzo dell'armadio. passo ora alla parte preferita che è quella della ruba appesa quindi ci spostiamo da questo lato qui ci sono tutti i miei abiti e qua ci sono le gonne qui dentro ci sono ancora i jeans che se avete visto l'ultimo cambio armadio erano lì in pausa diciamo per provarli adesso è arrivato il momento di provarli uno per uno e decidere quali tenere e quali buttare via quindi questi li tolgo da qua e li metto nel letto insieme alle altre cose continuo con il mio cambio dell'armadio e poi vado anche a sistemare questa cosa dei jeans non so se in questo video volevate anche curiosare nel mio armadio e quindi vedere quali sono i miei vestiti ma nel caso fatemelo sapere giù nei commenti che io realizzerò un altro video in cui vi porto un po' alla scoperta dei miei vestiti questi adesso li tolgo dall'appendino le piego e le metto dentro le scatole alcune donne le ho tenute qui dentro perché non sono proprio invernali sono un po' più leggere non sono neanche stive ma diciamo che per la primavera la mezza stagione va bene adesso portiamo fuori tutti questi jeans ok passiamo agli abiti ne ho in infinità quindi è rimasto qualcosa dentro l'armadio perché un po' è roba di mio marito perché lui non ha il bastone per appendere la roba quindi la mette qua e poi gli altri sono vestiti tipo questo che è in felpa e quindi ancora per la mezza stagione sta oppure la camicia in jeans lunga che anche questa va bene sia come abito che come camicia e adesso prendo tutti quelli che ci sono nel letto e li vado ad appendere scusatemi ma incomincio ad essere un po' stanca per quanto riguarda il trucchetto degli abiti appesi quello che vi posso suggerire è di appendere tutti gli appendini al contrario poi ve lo faccio vedere meglio in un close up e quando invece andate ad utilizzarli e li riappendete nell'armadio andate lì ad appenderli invece questa volta con l'appendino dritto in questo modo alla fine della stagione tutti gli appendini che avrete dentro l'armadio dritti faranno parte di quei capi che avete utilizzato e quindi che potete tranquillamente eventualmente tenere per l'anno successivo tutti quelli invece che sono rimasti al contrario vuol dire che sono abiti che durante la stagione non avete utilizzato e quindi potete considerare il fatto di venderli o di regalarli ecco questo è il metodo che vi spiegavo praticamente se mettete le grucce al contrario e poi quando utilizzate il capo le riappendete dritte alla fine della stagione vi renderete conto che ci sono alcuni appendini che sono rimasti nella posizione iniziale quelli sono abiti che non avete usato quindi potete benissimo darli via ok a questo punto anche se non sembra sono a buon punto ho già finito questa parte di armadio e questa completamente poi alla fine deciderò se togliere qualche altra giacca posso tenerle qua ma credo che mia di massima resterà così borse sistemate cassetti riempiti e alla fine come vi ho detto vi faccio vedere tutto un giro veloce qua fatto ora mi manca l'ultima parte dell'armadio che è proprio in fondo verso l'angolo dove ci sono tutti i giubbotti e i cappotti e anche tutti i cassetti qua davanti ma di questi cassetti qua ne svuoterò soltanto due perché negli altri c'è l'intimo e quindi continuo ad usarlo anche adesso questi cassettini che sono sempre dentro all'armadio vado a svuotare anche questi perché ci sono i cappelli, sciarpe, guanti eccetera eccetera e dentro questi cassetti andrò a mettere al posto di queste cose i costumi nell'angolo lì sotto in fondo ci sono anche gli stivali sia quelli corti che quelli più alti ma vado a farli in un secondo momento quando andrò a svuotare poi anche la scarpiera i cassetti devo svuotare questo che è pieno di maglioni pesanti e poi togliere metà di questa roba che è tutta roba pesante mentre l'altra metà sono jeans e pantaloni estivi dunque faccio un aggiornamento veloce così poi finisco di mettere a posto tutto e vi faccio vedere il risultato finale dell'armadio il letto è ancora strapieno di roba questa parte, la prima parte dell'armadio è finita quella dietro di me anche l'ultima parte invece è momentaneamente in pausa e i cassetti sono completamente svuotati e pronti per essere riempiti di nuovo con la roba che mi rimane e niente, a questo punto finisco di mettere a posto tutta la roba sul letto e a riempire le scatole per portarle via e alla fine vi faccio vedere tutto dunque ho finito di sistemare tutto l'armadio ora vi faccio vedere il risultato finale partiamo dicendo che questa roba la devo eliminare ma finché non so dove metterla rimarrà in pausa qua dentro l'armadio qui alla fine ho lasciato appese tutte le mie giacche però ho aggiunto anche la parte da appendere di mio marito che era dentro l'armadio ad angolo sotto ci sono tutte le mie borse e ho aggiunto anche questo pezzettino qui che sono delle maglie con le maniche lunghe e con le maniche a tre quarti che anche queste sono qui momentaneamente perché quando andrò a svuotare il cassetto dei maglioni andrò ad inserire queste perché al momento non ho spazio nei cassetti allora il primo cassetto è pieno e strapieno di t-shirt tutta la prima fila e canotte è top per quanto riguarda la seconda fila come vi dicevo prima vedete che con questo metodo qui i vestiti sono tutti a vista quindi si va a prendere direttamente quello che serve perché c'è una visuale completa appunto di tutti i capi che abbiamo e anche andando a prenderlo dal cassetto non si rischia di far cadere tutto o di mettere in disordine e un'altra cosa che vi dicevo che avendo tutto a vista si riescono ad utilizzare tutti i capi invece che utilizzando diciamo le pile i vestiti in pila, in colonna in genere si tendono ad utilizzare solo quelli in cima secondo cassetto qui ci sono tutti i pantaloni ho scelto di mettere nella prima fila tutti gli shorts e invece in quella dietro tutti i leggings un'altra cosa che vi dicevo e qui si nota decisamente meglio è che nei cassetti ho messo tutto in ordine di colore oltre a fare più bello visivamente ti dà anche la possibilità di scegliere direttamente nella sezione del colore che preferisci tra tutti i capi che hai di quel colore per esempio nella parte dei jeans se sono un po' sparsi magari qualcosa può scappare dalla vista mentre così tutti nello stesso posto ho perfettamente idea di quali sono i pantaloni a jeans insomma che ho a disposizione ultimo cassetto qui sotto ci sono tutti appunto i pigiami e i vestiti che uso per casa qui per la precisione ci sono tutte le magliette e tutti i pantaloni lunghi mentre dietro ci sono tutte le cose corte quindi pantaloni corti e magliette con le maniche corte che non utilizzo ancora ma che utilizzerò tra un mesetto circa per quanto riguarda l'armadio ad angolo ho lasciato più o meno come era prima infatti nella parte superiore ci sono tutte le gonne corte mentre nella parte sotto ci sono tutti gli abiti l'unica cosa che ho cambiato è quell'angolino lì dove ho messo i vestiti per lo sport quindi le cose per il fitness qui nell'angolo qui nella parte finale dell'armadio anche non è cambiato molto alla fine gli stivali ho deciso di lasciarli lì qui ho messo tutte le giacche più leggere però quelle più lunghe che dall'altra parte non mi stavano e qui ci sono i miei trench che vanno bene anche per l'estate perché sono leggerissimi e alcune giacche appunto un pochino più pesantine che vanno bene in questo periodo e nel cassetto prima c'erano i cappelli le sciarpe e i guanti ora ci sono i costumini per il mare andiamo ai cassetti qui appunto c'è il cassetto di cui vi parlavo prima quello con i maglioni qui ci sono le felpe più pesanti che ancora un po' alla mattina servono mentre qua ci sono i maglioncini quelli più leggeri in cotone questi qua magari rimarranno anche nel cassetto ma quando eliminerò questi andrò a mettere qui le magliette che sono nell'armadio dall'altra parte ultimo cassetto qui dentro alla fine ho fatto tutto il declutter dei jeans e questi sono quelli che mi sono rimasti e questi sono i classici jeans questi sono quelli neri e questi sono quelli più leggeri quelli estivi quelli bianchi quelli con il tessuto più fino insomma per quanto riguarda il resto queste sono le scatole che ho riempito in realtà erano tre ma una è già finita al posto mi sono già occupata anche dei capi da regalare e da vendere e per quelli ho riempito l'intero baule della macchina quindi sì insomma sono molto molto soddisfatta ultimo consiglio che a questo punto vi posso dare è di utilizzare la roba da regalare e da venderla ovviamente per fare beneficenza ma quella più bella o quella per la quale avete speso più soldi per acquistarli ritornateli a vendere e con i soldi che guadagnate utilizzateli per riacquistare i capi nell'armadio che vi rendete conto vi mancano insomma e niente con questo è tutto io spero di esservi tornata utile lasciate un mi piace al video per sostenermi e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ricordatevi di attivare la campanellina perché quando non sono costante verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video sul canale con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao ciao